Salute a tutti ragazzi e benvenuti. Questa è una arcade di Starcraft, chiaramente ispirata a Slenderman. Siamo tutti entusiasti di giocare questa cosa. Chiaramente, oddio non riesco ad articolare le parole, ci giocai una volta col buon vecchio Dife, ci siamo cagati addosso, non ha più voluto giocarci con me. Ho lasciato la lobby aperta per un po', nessuno è entrato. Nessuno vuole giocare questa mod, quest'arcade, quel cazzo che è. Ed eccoci qua. A cercare un non so che nella foresta? Ragazzi, è veramente molto buio, spero che voi vediate bene. Dobbiamo trovare delle cose, che io non vedo mai, non so perché. La torcia che non funziona. Shit. Ragazzi, ci siete? Ragazzi! Cos'è sta roba? Che poi sta cosa non ha niente a che fare con Starcraft, non ho ancora visto niente di Starcraft io qua. Forse sta cosa è un ingrandimento di una struttura Terran. Forse non lo è. Ah! Ma dai, ma seriamente, ma era invisibile sta cosa! Come cavolo faccio a vederla? Qua è buissimo, non si vede, devo aumentare il contrasto, non vedo un cazzo. Non c'è nessuno, vero? No, non c'è nessuno. Sto cercando di distinguere se vedo quelle scat... Ah! Scatoletta! Let's go, dai ragazzi, ce la possiamo fare. Sono solo 19. Sono solo 19 e neanche si vedono. Ma che mi saltano addosso le idralische? Avrà un brigolo di legame con Starcraft, sto cosa? Ah! Dove sono le scatole? Chissà quante scatole sono passato di lato e non le ho viste. Non dovrei stare così vicino al muro. Però è l'unico modo per orientarmi. Sento sciacquariare. Ragazzi, che sciacquaria? È una cassa quella? No, io non lo so, non so cosa vedo, non so che vedo, non so se vedo. Anche perché presumibilmente se non trovo un po' di casse non... non faccio triggerare i jumpscare. Che cazzo è? Che cazzo è? Oh! Oh, che è? Oh, lo sentite anche voi, eh? Non sono pazzo. Che cos'è? Che cos'è? Ah, per sbaglio ci sono capitato davanti. Oh, cazzo! Che cazzo è? Oh! Oh! Ma, ma, per i veterani dell'horror... Che cazzo è? Che cazzo è? Che cazzo? Corri, corri, corri. Una scatola? No. Corri, che cazzo fai? Ragazzi, per un veterano dell'horror questa cosa sarà una ninna nanna. Ma questo è il mio primo gioco horror in assoluto. Io mi... Ho una sensazione di pesantezza al petto. E le casse, non le vedo! Cioè, non è che non le vedo io. Non si vedono proprio. Cioè, se ci capitano davanti, ben venga. Sennò, sti cazzo. Cos'è sta cosa? Si tocca. Cagolo, cavolo che io entro là dentro. Invece ci sto entrando. Ti prego, ti prego. Oh! 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 Una cassa, la vedo! Ragazzi, la vedo. Una cassa. Fiu! Vai cazzo! Sono solo jumpscare, non ti uccidono realmente queste cose. Cioè, intendo nel gioco. Cazzo! Dai! Eh, quel respiro affannoso ci voleva. È una cassa? Sì, vabbè, figurati se è una cassa quella. Cavolo! Oh! C'è un briciolo di orientamento. Cos'è questo? Guardiamo bene che non ci siano casse. Guardiamo bene. Guardiamo bene per modo di dire. Cos'è sta cosa? Ah! Ma che cazzo è quello? Il robot dei Terran? Ah, vabbè. No, non ce la posso fare da solo. Mi serve qualcun altro. Devo reclutare un losco figuro per questa mappa, ragazzi. Ragazzi, questo era solo un assaggio di quello che ci aspetta. Allora, ci vediamo. AAAAAAAH! Ma... 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 No... Ma... 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 Grazie a tutti.